Ciao a tutti, io sono Aurora e tu sei? Aurora Eike! Ciao ragazze! Ciao! Oggi ho una challenge per voi! Farete 24 ore con le unghie lunghe! 24 ore con le unghie lunghe! Sì 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 Ludo! Siete pronte? Mamma, ma noi non abbiamo le unghie lunghe! Certo che le avete! Eccole qui! Vi piacciono? Bellissime! No, io le apro! Ludo ha le unghie da sirena, vediamole Ludo gira! Che belle! Auri e tu? Le unghie da coniglietto? Che carine! Allora dovete subito metterle perché tra due minuti inizia la challenge! Dovrete mangiare, studiare, fare tutto 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 con le unghie! Sei pronta Ludo per questa sfida? Chi si arrende per prima perderà! Fatemi vedere come le mettete! Senti! Ragazzi! Che belle queste! Auri sono carine! Lo so, vediamo qua! Allora vediamo! Auri inizia! Attaccati tutte le unghie! Ho anche lo smalto io vabbè! Wow! Ora me li apri? Aspetta! Aspetta Ludo! Oddio è impossibile anche staccarle! Ok ragazzi guardate! Vediamo! Aprigliele pure a Ludo così se le mette intanto! Che belle! Ma è difficile aprirlo con queste! Ludo li sai mettere? Sì! Vediamo! Un attimo! Dove va? Devi attaccarle? Come sta facendo Aurora? È piccolo! Oggi ho un piccolo problema! Perché? No ragazzi! Quali di Ludo sono bellissime! Sono unghie da sirena! Guardate! Sembra la coda di una sirena! Nellì! Deve attaccarle bene Ludo se si staccano! Guarda Aurora come sta facendo! Attaccale bene! Schiaccia! Schiaccia! Che devono durare 24 ore queste unghie! Sappilo! Eh sì eh! Mamma mia! Belle! Vediamo Ludo! Le unghie di sirena! Che bellina questo! Io sono una sirena! Sono una sirena! Sei una sirena! Una sirena? No! Non volevo prendere questo! Mamma mia ragazza! Vediamo Ludo! Vediamo le unghie! Che belle! Ok! Manca l'ultima! Vediamo Auri! Oddio! Ma wow! Auri! Sono bellissime! Che carine! Ecco qui! Mettiamo le unghiette di Ludo! Che le sue unghiette sono piccoline! Quindi ci vogliono quelle piccoline! No vabbè! Vediamo! È così! Che belle! Giratevi! Vediamo prima quelle di Ludo! Che belle Ludo! Ti fa i grattini! Vediamo! Mettile così sulle guanciotte! Vediamo quelle di Auri! Che belle! Ok! Io direi di dare il via alla challenge! Siete pronte? Sì! Sicure? No! Eh sì sì! La prima cosa che dovrete fare è mangiare! Con le unghie lunghe! Pronte? Andiamo! One! Two! Three! Go! Ok! Ok! Iniziamo adesso! Andate! Andiamo! Allora come andiamo? Allora! La forchetta! Riuscite a prendere la forchetta Auri? Io ci sono riuscita! Ci sei riuscita? Ah sì ci sono riuscita! Aurora! Eh! Non pasticciare! Ecco così! No! Così! No! Allora solo anche? Così! Così! No! Ma com'è che la prendo? Ah così! Auri! Ludo vediamo! Fammi vedere come mangi! No raga! Vediamo se sai mangiare con queste unghie lunghe lunghe! Oh! Fammi vedere queste unghiette tue! Che carine! Auri tu? Come sei messa? Io non l'ho mai tagliato così in vita mia! Non le faccio! Queste fettine un po' strane! Va bene dai! Ci stai riuscendo! Non le faccio! Ok! Ludo! Ludo! Non le faccio! Non le faccio! Non le faccio! Mangiate la frittatina! È un merenda Roblox! Com'è questa frittatina? Buona! Volete farvi un panino? Voto 2! 10! Che bello! Voto 10! Brava Ludo! Vedo che hai dimestichezza con queste unghie Ludo! No! 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 Eh! Deve bere Ludo! Oh! Oh! Brava! Guardate che brava! Vedi? Mette anche l'acqua a te! che brava vediamo però se sapete bere con queste unghie piano piano stai combinando un casino mamma mia che belle mi sa che Ludo la vince questa challenge Auri perché la vedo bella disinvolta e adesso devo prendere un po' brava Ludo vediamo vediamo dai ve la state cavando per il momento vediamo quanto resistete Aurora come farai adesso ad aprire questo pacco che è molto difficile mamma se mi cade l'unghia e se ti cade l'unghia certo che perdi se mi cade un'unghia perdete e la challenge finirà quindi dovrete resistere fino a stasera Ludo non fare cadere l'unghia non farti staccare un'unghia Ludo se ti cade l'unghia nel panino è finita eh vai una do no ok mantieni tieni prendi ahahah brave occhio a non farti cadere le unghie Ludo tranquilla tranquilla ragazzi adesso vuole avere Ludo ci scommettete che io riesco a mangiare il centro di questo panino senza staccarlo e senza fare niente wow brava anche tu l'hai fatto bravissima brava brava sono qua se mi cade l'unghia ti è un marco eh perdi la challenge cara ahahah poi perdi guardate che c'è anche il primo da mangiare quindi non riempitevi di pane ma che come ma che buono buono ragazzi buono Auri ti sta copiando mi copia vediamo ma che cos'è questa cosa ahahahahah com'è Ludo ragazzi sapete una cosa mmm non mi sono mangiata la frittatina con il pane è buona la frittatina con il pane e con le unghie come procede? male male attenta a non mangiarti anche le unghie quando dai il morso al panino stai molto attenta tranquilla ah tutto ok tutto ok? si sta staccando attenta perché perdi la challenge se ti cade e si stacca perdi la challenge carina e io ho vinto no ha fatto mamma e Ludo vince stai mangiando Ludo? no ragazzi ecco gli gnocchi allora io ho preso quelli con la ricotta e il formaggio Lulù quello con il suvetto io sto mangiando un pezzo di Aurora ti sei rubata voglio assaggiare ah vuoi assaggiare la pasta di Aurora? è ricotta mangia mangia com'è? buono quindi procede bene ok bene mangiate tutto 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 ragazzi ho un piccolo problema non sto mescolare con la forchetta vai Ludo vai ce l'ho fatta su su quanto ti piacciono da 1 a 10 Ludo? poco poco va bene ci vediamo dopo eh vabbè ma possono cadere se cadono eh guarda che se cadono perdi la challenge piano ma se no cadono ragazze volete un bel gelatino? Ludo ti stai grattando Ludo guarda che si infila l'unghia nel naso sai che se ti togli una caccola con l'unghia ti rimane attaccata nel naso stava per cadere fammele vedere vediamo 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 oh che belle mamma che c'è? si sta staccando? si sta staccando non hai vinto papi eccomi i gelati su 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 prego allora è Lulù dobbiamo aprirli? eh sì questa è una prova se cadono tre unghia abbiamo un petto no anche se cade una su aprite vediamo chi di voi riesce ad aprire il gelato senza far staccare le unghie vediamo ok dai che allora ci sta riuscendo brava rivediamo ci sta riuscendo dai Ludo non arrenderti Ludo come te la stai cavando Ludo male come male? dai ti do il mio guarda ti do il mio va bene? hai visto? che sorellina brava che hai mi ha gelato che l'ho aperto da sola si si ci crediamo tutti vai Aurora vai come fai? sei agile con le unghie lunghe brava Aurora ti è rimasta appiccicata ti è rimasta appiccicata mamma mia che mano chic che ha questa bimba fammi vedere fai così non sapete che ho un talento nascosto? ah sì? muovi le narici oh mio dio non ci avevo mai fatto caso vediamo tu muovi tutto tra le mani Ludo 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 mangia bene va bene è partita Ludovica è partita Lulù state facendo i compiti ragazze non riesci ad aprire il libro Ludo invece con molta facilità vediamo attenzione a non far cadere le unghie questo l'ha fatto vuole molto brava vedo che state resistendo con queste unghie molto bene Auri tu? io mi devo scrivere gli appunti perché no vediamo come i colori Ludo allora no questo è bianco ah Aurora riesce anche a scrivere brava Aurora come fai? ragazzi scrivo malissimo perché non riesco a tenere bene sta roba no vediamo Ludo con i colori eh Ludo ti voglio proprio vedere adesso mi sa che questa challenge la perdi proprio tu e vinco io ma chi è? vediamo Ludovica sta colorando con le unghie finte brava Lulù che c'è? se ti cadono è la fine e se baglio è la fine se ti cadono è la fine? però vedo che sei brava ma sei consumato sei consumato che belle manine che tieni Lulù infatti sono piccoli queste manine piccole piccole ma dai ragazzi sono piccolissime poi con gli uomini che carina con quelle manine piccole lì sentite l'amore che molto bene Lulù cosa è? eh farei corregge e scorregge va bene ragazze si sono fatte le undici di sera e nessuna delle due ha perso siete state brave la challenge sta per terminare che è caduto Lulù Lulù ti è caduto un'unghia Lulù ho vinto Lulù ha vinto Ludo ma hai perso amore si è uffa uffa si sono staccate le unghia Ludo però sei stata brava perché sono durate fino ad ora bravissima Aurora finalmente ha vinto una challenge brava Aurora brava il video finisce qui noi vi salutiamo vi mandiamo un grosso bacione e qui vi facciate fate la campanellina e lasciate tantissimi pollicioni in giù fatelo eh ciao 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 Grazie per la visione!